Al netto delle cessioni di alcuni beni da parte della famiglia del tedesco, anche chi detiene oggetti preziosi appartenuti in passato alla Schumacher può essere tentato dal venderli alla luce degli alti guadagni. In questo caso si colloca una rarissima Ferrari 550 Maranello del 1996 venduta all'asta. La vettura è stata ceduta da Art Curial in occasione del Garden Party Saint-Tropez. Le notizie sul nuovo proprietario non sono state diffuse, ma sicuramente si tratta di qualcuno che ha a disposizione grandi fortune, siccome il prezzo sarà stato esorbitante. Si tratta di una vettura che viene da Maranello appartenuta a un mito dei motori e piuttosto rara. Del modello 550, infatti, vennero prodotte soltanto 3.000 unità fra il 1996 e il 2001. Il campione tedesco, infatti, la cedette all'importatore giapponese Cornes, autografando il coperchio del vano portaoggetti e lasciando anche una lettera, augurando buon divertimento al nuovo proprietario. Da quel momento ha registrato un totale di 10.000 chilometri percorsi, ed è stata mantenuta come nuova. Il valore non sarà stato inferiore ai 250.000-450.000 euro. Una vera gemma. E con un ricordo unico sulla carrozzeria. Grazie. 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 Grazie.